La Flores Multimedia, Mauro Ciutini, bentrovati. Il traffico intenso su strade e autostrade della Toscana per i trasferimenti pasquali. Un chilometro di coda sulla Firenze-Pisa-Livorno dopo un incidente tra Firenze-Viadotto-Indiano e l'allacciamento con la 1 in direzione Livorno. Codi anche in A11 tra la barriera di Firenze-Ovest e Prato-Est, la direzione quella per Pisa. Passiamo alla 1, traffico rallentato tra Calenzano-Sesto Fiorentino e Incisa-Reggello, la direzione è quella per Roma. Traffico sui viali di Firenze, via Guido Monaco, viale Redi, viale Belfiore, viale Milton, viale Strozzi, viale Fratelli-Rosselli. Chiudiamo come sempre con i lavori per la tramvia Firenze, in corso quelli di asfaltatura, siamo in piazza VXE. Muoversi in Toscana, realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio, a più tardi. Grazie a tutti.